Federica Panicucci verrà estromessa da mattino 5? La conduttrice potrebbe condurre un nuovo programma su Italia 1. Federica Panicucci lascerà mattino 5 per un nuovo programma su Italia 1? Leggi anche, l'almanacco del giorno dopo, Drusilla For Ascolti TV in calo, quando finisce il programma di Rai 2? A settembre ci sarà una nuova edizione? Federica Panicucci lascia mattino 5? Federica Panicucci, secondo Dago Spia, sarebbe pronta a lasciare mattino 5 per approdare su Italia 1, per un nuovo programma Al momento non ci sono notizie in merito a quale sarà il destino della conduttrice, ma stando alle indiscrezioni potrebbe abbandonare il suo posto al fianco di Francesco Vecchi Non è una novità, comunque, che Mediaset da tempo pensi di riposizionare Federica Panicucci? Al momento la conduttrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito e non sappiamo se sia entusiasta o meno di cambiare, presumibilmente, studio televisivo Nonostante le indiscrezioni, comunque, il suo futuro rimane incerto Cosa cambierà a settembre? Chi la sostituirà? Se la notizia fosse confermata, dunque, a sostituire Federica Panicucci a mattino 5 ci penserebbe Francesco Vecchi che da tempo, insieme alla diretta interessata, tiene le redini del programma La coppia ha sempre portato grandi risultati al programma, ottenendo ottimi ascolti e concorrendo con storie italiane di Eleonora Daniele Mattino 5 si è sempre avvicinato al 20% di share, andando anche oltre di tanto in tanto Nonostante questo, comunque, la rete è pronta a dare uno scossone stromettendo la Panicucci dalla mattina di Canale 5 Succederà? E dove la vedremo? Lo scopriremo presto Seguici su Instagram cliccando qui